Ciao 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 a tutti, oggi penultimo giorno di mare, domenica, abbiamo ancora domani tutto il giorno e poi martedì si riparte, si torna a Bergamo e così mercoledì la mia piccola Alice andrà a scuola, la scuola materna, vero? che le aspettano tutti gli amichetti, le maestre, che mancano due giorni e dopo comincia, è vero? e non è ancora lì, eh sì però abbiamo avvisato e ti aspettano a braccia aperte, abbiamo avvisato anche la zia Gloria, la zia Gloria è la dirigente, la direttrice della scuola dell'infanzia che si dà da fare tanto anche lei, pensate che prima, perché loro hanno fatto il CRE a luglio, il mini CRE a luglio, si sono organizzati benissimo con la disinfezione, con tutti i passaggi, percorsi obbligati per ogni gruppo, un gruppo di 5 bambini, ogni gruppo era di 5 bambini e le maestre e la zia Gloria, appunto la dirigente, hanno tinteggiato tutte le aule, uno dei colori diversi, perché ogni gruppo ha un colore diverso, il tuo è il giallo limone e hanno messo tutte le postazioni per la disinfezione, hanno messo tutti i percorsi con le strisce colorate, ognuna per colore della classe si sono date veramente da fare, hanno pulito e igienizzato tutto, loro, le insegnanti, sono state veramente bravissime e mi ricordo che poi avevano postato nel gruppo della scuola, appunto, la foto di loro, la fine di tutti i lavori, distrutte ma felici perché erano orgogliose di avere sistemato per bene la scuola voglio però farvi vedere oggi l'acquisto, l'unico acquisto che ho fatto qui al mare allora, al mare sono venuta con questa borsa, che è una borsa vecchissima, avrà, io dico, almeno, almeno 12 o 13 anni, se non 15 che è una borsa di tela, molto ampia, molto grande, con queste due tascone davanti ed è veramente pratica perché è grande, prima di tutto, ci sta di tutto e di più ma soprattutto, essendo morbida, si adatta un po' a tutte le cose che vengono inserite dentro perché si può gonfiare a piacere però poi qui sulla spiaggia sapete che ci sono, non dappertutto a dire la verità perché non c'erano i venditori ambulanti né a Fano né a Cesenatico invece qui ce ne sono parecchi, ognuno con la loro, con la sua, col suo espositore, tutto quanto ma beh, ma lì c'erano un sacco di bancarelle ma bancarelle erano per strada, però non sulla spiaggia ti ricordi che sulla spiaggia non c'erano quei signori che vanno con quei carretti che bello, vabbè comunque e mi sono lasciata tentare da una borsa farlocca evidentemente farlocca, però era carina avevo voglia di una borsa grande e chiara o bianca o ghiaccio o bescio ho trovato questa, color ghiaccio fintissima, fintissima Versace ovviamente perché l'ho pagata solo 20 euro quindi potete ben immaginare lo stesso venditore l'ha detto, è un'imitazione so che non è una cosa da fare comprare le cose, le imitazioni però me l'ha piaciuta, l'ho presa giustamente Alice sta illustrando che c'è una bella tasca grande dietro dove io di solito metto il cellulare e le chiavi e poi dentro, vabbè io adesso l'ho riempita di roba c'è la cerniera per aprirla c'è anche la cinghia per portare la spalla ma a me piace portata così ma c'è anche la cerniera dentro alla borsa e dentro ci sono due scomparti io qui adesso ho messo un sacco di roba è veramente pienissima di tutto e di più ho anche questa bustina dentro dove ci sono, dove tengo le mascherine di scorta dentro in questo sacchettino e anche le mie però perché mi è capitato anche magari di uscire così la sera qua e i nostri amici, la mia amica aveva dimenticato la mascherina io ho sempre due o tre mascherine di scorta per non farla tornare indietro le ho dato la mia e anche ieri sera col nonno però anche lui l'aveva dimenticata e in più ho i guanti quelli di lattice non si sa mai poi vabbè ho le solite cose della borsa ah poi avevo comperato prima di partire al mercato questa che è una una borsa una come dicono quelle vere una shopping bag vero? io allora ti ho detto è arrivato il nonno con la spesa sto facendo un video nonno tino anzi nonno il nonno è tuo non mio ed è molto pratica perché guarda guarda la magia Alice si l'avevi già vista l'avevi già vista allora le fai vedere è veramente grande 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 è grande sembra che è piccolissima ma invece è grandissima vero? e poi si ripiede si rimette nel suo contenitore e ritorna piccolissima è bella e basta adesso ci prepariamo andiamo in spiaggia e dopo vi faremo vedere anche un piccolo figino in spiaggia davvero? si dai vediamo se il mare è calmo oggi si vi facciamo vedere chiede al nonno guarda il nonno che è andato a fare la spesa avrà visto già anche il mare mare calmo è viva possiamo fare il bagno puoi nuotare sapete che ho imparato a nuotare? anche? senza braccioli e anche sott'acqua d'acqua così mi sono mossa vieni che salutiamo allora dai fai tu i saluti di rito ciao un abbraccio un sorriso un bacione ciao ciao fatti vedere Tino saluta anche tu dai col silenzio dalle dolomiti dalle dolomiti insomma la punta pegna punta pegna e la cima della della marmolada insomma il suo Tino si gli piace il mare ma la montagna è la sua preferita da bravi bergamaschi la montagna è il suo sport preferito ciao ciao ciao